Oh non va, sei una bese, scappa E io, ma hai E io, ma hai, quando hai fatto un giallo? Sì, dai Non c'è stata... Oh! E io, io mi ho vedi No, no Io ti via Che fai, non scappi? No Ma ti aspetta tutti No, 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 no Veramente, guarda, chiedete via E dai, scappa Stasera non scappi allora No Stasera no Stasera non scappa all'ordine abbondata Hai detto che non puoi scappar Non c'era sempre Però c'è una sorpresa E quindi stasera? Stasera scappa un quarto video delle papere Quindi, 21 e 15, come sempre E papere E papere Top Quarta edizione Col papere assurde Ci divertiamo Sì E poi, l'ultima puntata Le aggiorniamo noi A brevissimo Ciao 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 Grazie a tutti